fine settimana di intenso lavoro per la polizia locale fanese alla normale attività di controllo del territorio si è aggiunta un'intensa attività investigativa che ha consentito di individuare i due proprietari dei veicoli rei e di due casi di omissione di soccorso e diversi interventi della sezione infortunistica stradale i due responsabili di omissione di soccorso sono una donna di 65 anni fanese alla guida di una lancia y che nel quartiere san paolo ha urtato una minorenna in bicicletta che per i postumi della caduta è stata ricoverata con lo sterno rotto in ospedale ed un uomo di 63 anni residente ad urbino che nei giorni scorsi ha urtato con lo specchietto retrovisore del suo suv una podista milanese lungo viale ruggeri procurandogli diverse scoriazioni e contusioni per entrambi una volta individuati è scattata la denuncia per omissioni di soccorso stradale fuga e lesioni gravi sul fronte degli incidenti stradali nella giornata di sabato in località Fosso Seore si sono verificati due episodi simili per dinamica luogo e soggetti coinvolti ma ad orari diversi il primo alle 11 e 25 all'intersezione con la strada panoramica dove una nissan micra condotta da una donna fanese di 48 anni ha urtato l'esatta dinamica è ancora in fase di accertamento uno scuterone condotto da un fanese di 56 anni trasportato non in gravi condizioni al pronto soccorso del santa croce ed in secondo poco più avanti alle 15 e 30 quando una punto condotta da una residente a tavuglia di 20 anni mentre usciva da un parcheggio a mare è in collisione con uno scuterista residente a pesaro di 71 anni trasportato in codice rosso al pronto soccorso di pesaro domenica il comando della polizia urbana di fano ci segnala l'intervento lungo la flaminia all'altezza della frazione di carrara dove all'incrocio con la strada provinciale 80 probabilmente per una mancata precedenza una scoda condotta da una donna di 49 anni nell'immettersi sulla nazionale ha urtato violentemente una golf che procendeva in direzione fano condotta da un residente del posto un uomo di 53 anni per il violento urto le auto fortemente danneggiate hanno fatto diversi testa coda fermandosi poi ai margini della carreggiata inizialmente la polizia locale di fano intervenuta sul posto con sei unità tra cui lo stesso responsabile del corpo ha allertato l'elisoccorso che una volta constatate dal 118 le condizioni dei due conducenti non è stato più attivato ai due è stata prestata assistenza sanitaria ma non si è reso necessario il ricovero in ospedale sul posto anche una squadra dei vigi del fuoco di fano per mettere in sicurezza i veicoli incidentati